Si inaugura nuovamente in piazza Giotto la pista del ghiaccio per il divertimento di grandi e piccini. Assolutamente, dopo averla riportata l'anno scorso con la collaborazione preziosa e imprescindibile dell'amministrazione comunale, anche quest'anno è tornato un oggetto del desiderio della zona perché comunque per quel mese, per quei due mesi, dà vivibilità e soprattutto porta tanta gente nella zona. L'obiettivo di Confesercenti è quello, tramite le sue iniziative, far rivivere i quartieri e dargli nuova luce. È una struttura sportiva momentanea evidentemente che allieterà la città nel periodo natalizio e quindi permetteranno agli organizzatori, ai bambini a prezzi ridotti di poter usufruire di questa meravigliosa struttura.